La CGL Teramo lancia un grido di allarme sulla drastica riduzione del numero di alunni sul territorio provinciale. Il prossimo anno scolastico si prevedono infatti 859 studenti in meno. Il sindacato chiede all'ambito territoriale di Teramo di accogliere le richieste delle scuole per avere organici adeguati, in base al tempo scuola programmato e non in base al numero di alunni. Attualmente gli studenti delle scuole pubbliche nel Teramano sono 38.041. Il prossimo anno scolastico saranno 37.554. In tutta la regione per il 2022-2023 sono previsti 2.723 alunni in meno a fronte degli oltre 2.000 dello scorso anno. Complessivamente saranno poco più di 164.000 gli studenti abruzzesi rispetto agli attuali 167.275. La provincia di Teramo paga il tributo più alto, un dato che da solo documenta il persistente aumento della denatalità delle immigrazioni dalle aree interne che si accompagnano ad un esodo diffuso delle nuove generazioni. Di fronte alla situazione emergenziale, la CGL chiede che le scuole possano avere la possibilità di garantire un'offerta formativa programmata, più tempo scuola, tempo pieno alla primaria e tempo prolungato alla secondaria, recupero delle discipline professionali. Inoltre per il sindacato sarebbe importante consolidare un organico docente data che consenta di poter fare scuola rispettando i requisiti del distanziamento, della sicurezza e dell'offerta formativa di qualità. Solo dopo una forte pressione e continue mobilitazioni, scrivere una nota alla CGL Teramo, siamo riusciti a mantenere, fino al termine delle elezioni, il cosiddetto organico Covid. Eppure si tratta di un organico importante per le scuole che andrebbe mantenuto anche dopo l'emergenza. L'unico dato positivo è il lieve incremento del numero di docenti di sostegno. In provincia di Teramo ne sono 69 in più.